Grazie a tutti e come ogni congresso il Presidente nazionale fa la propria relazione, una relazione che naturalmente non può riguardare tutte le attività degli ultimi 4-8 anni, perché sarebbe una relazione mastodontica e non vuole nemmeno andare a guardare le piccole cose che però delle volte creano il quadro più grande. Cerchiamo quindi di tracciare una base, che è la base su cui in questi anni abbiamo costruito e spero che poi da domani o da più tardi parlerete di futuro, parlerete di quello che c'è da fare. Parlare del passato serve solo per vedere gli errori che si sono stati fatti e migliorare. Quindi diciamo che questi 8 anni della mia Presidenza, che non è la Presidenza Righi, ma è la Presidenza di un gruppo di persone che nel corso degli anni, il Comitato Esecutivo, la Giunta, il Consiglio Nazionale, ha permesso al Presidente Righi di fare determinate cose o di realizzare certi progetti. Nessun uomo da solo può fare cose che coinvolgono una comunità o che coinvolgono un gruppo di persone. Il più delle volte quando vieni accusato di essere un dittatore è semplicemente perché prendi in mano anche il fardello di chi non fa nulla. E allora diventi accentratore o diventi dittatore. Noi in questi anni abbiamo subito tanto, ma lo sappiamo tutti, la crisi del 2008 è come si diceva prima la crisi del 2011. Perché la crisi del 2008 è stata una crisi mondiale, una crisi finanziaria partita dall'immobiliare, partita da altri paesi che ha coinvolto un sistema. La crisi del 2011 l'abbiamo causata noi, col governo Monti, che ha aumentato a dismisura le tasse sull'immobiliare. Non comprendere che il mercato immobiliare storicamente è anticiclico e quindi aiuta ad uscire dal paese, dalla crisi scusate, aiuta il paese ad uscire dalla crisi. Non comprendere quello. Ci ha condannato negli anni ad avere una piccola ripresa o una ripresa che non è coerente con quella degli altri paesi d'Europa. che ricordo oggi hanno e vedono aumenti per quanto riguarda il comparto immobiliare vicini alle due cifre. Parlo di Spagna, parlo di Francia, parlo di Germania. Non ci deve soddisfare il fatto che aumentino il numero delle compravendite. Si esce dalla crisi quando ci sono due fattori importanti che compongono e che dimostrano che si è uscito dalla crisi. L'aumento del numero delle compravendite e l'aumento del numero del valore dell'immobile e quindi l'aumento dei prezzi. Questo in Italia non avviene. E in Italia, infatti, nelle classifiche di crescita del PIL, il nostro paese ancora spera, come ha detto Confindustria, dichiarato Confindustria la settimana scorsa, 1.5 di crescita forse del PIL. Allora, quando si dice la crisi non è finita, lo diciamo perché non vogliamo dare contro a un governo piuttosto che a un altro. Lo diciamo perché la promessa fatta con gli italiani nel 2011, da chi ci governava all'epoca, che era quella mettiamo le tasse sull'immobiliare, facciamo la spending review e poi ritorniamo e abbassiamo le tasse perché dovevano essere tasse temporanea, questa promessa non si è mai avvarata, a meno che qualcuno non abbia fatto spending review a nostra insaputa. Quindi è ancora una promessa negata, fatti che la politica non ha portato avanti, che hanno causato e stanno causando ancora un problema di crescita per il nostro paese. In questi otto anni abbiamo dovuto affrontare come categoria nel complesso e come più avanti dirò un grave problema di chiusura di uffici, di perdita di posti di lavoro, più di 800.000 posti di lavoro persi nel comparto dell'immobiliare. Questi sono dati che nessuno cita mai. I grandi telegiornali parlano dei 5.000 posti di lavoro, dei 10.000 posti di lavoro, del problema dei giovani, ma non parlano mai, e mai ci parleranno, del disastro che è stato provocato in questi otto anni alla classe media italiana. A noi, popolo delle partite IVA e piccoli professionisti, che veniamo sì lì disintermediati dalla crisi, che miete, come ci diceva prima il nostro collega, che ha problemi veramente di sopravvivenza e non fa ripartire questo paese. Noi, dell'immobiliare, siamo il motore con cui fa ripartire il paese. L'hanno fatto gli Stati Uniti, usando la leva per l'immobiliare, l'ha fatto l'Europa, l'hanno fatto tutti i paesi che oggi crescono. E noi, agenti immobiliari, siamo il centro di questo settore. E bisogna che ci rendiamo conto che siamo veramente coloro i quali possono muovere un'economia. Avete visto oggi nei saluti quanto valore la nostra categoria ha oggi nella percezione degli altri componenti della filiera. Questo è un lavoro che è stato fatto in otto anni, quando a Taormina il programma congressuale, che poi è stato votato, e non le persone, ma il programma congressuale, era Taormina 2009, nasce una nuova FIAI. Questa nuova FIAI penata è una federazione che oggi parla con tutti. Non è una federazione che, oddio, il franchising con quelli non ci parliamo, il notariato non ci parliamo. Non è una federazione contro. È una federazione che è, ed è consapevole, che gli agenti immobiliari svolgono un ruolo centrale nella filiera e cerca di stare al centro di questa filiera. E per questo è importante il dialogo con tutte le associazioni. Abbiamo avuto diversi problemi in questi anni, lo sapete bene voi che siete negli anni, una parte di voi che è stata consigliera, che è fatto parte del Consiglio nazionale. Abbiamo affrontato anche noi i morsi della crisi, aggravata questa crisi anche dalle normative. La federazione viveva e trovava la propria sussistenza attraverso una piccola percentuale che proveniva dai propri associati che segnalavano i mutui alle banche in maniera, voglio dire, strumentale all'attività. La 141 ha tolto fatturato alle nostre agenzie e ha tolto la sussistenza, il principale punto di sussistenza è la nostra federazione. Una federazione che nel 2011 si è trovata con 7 milioni di euro di costi fissi e 3 milioni di entrate. Cosa che molti dirigenti sembra sfuggire, qualcuno qui dice che io non ho memoria, io la memoria ce l'ho buonissima. Se fossimo andati da qualche banca a dire questa è la situazione, molto probabilmente avrebbe detto guarda Righi sei un amico ti voglio bene ma torniamo più avanti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che non ha fatto il governo in questi anni. Abbiamo fatto spending review, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo lavorato invece di 8 ore, 13 ore al giorno, abbiamo lavorato con i nostri associati, per i nostri associati e oggi abbiamo ribaltato una situazione. Una federazione questa che è riuscita, mentre alcune aziende e alcune banche fallivano, a creare una società che oggi è un SPA, che oggi è quotata nell'immaginario degli altri partner che abbiamo e quindi delle banche e dei nostri competitors, come una delle società più serie della mediazione creditizia e questa società ci ha dato nuova linfa per i nostri, per i nostri diciamo bisogni federativi. Quindi una startup che voglio dire che non è più una startup ma è una realtà ma che ha portato e che potrebbe essere quasi citata come case history perché siamo l'unica società che è di proprietà di tutti noi, quindi una public company che è di un'associazione. Altri, altre possibilità ci sono state, altri tentativi ci sono stati ma noi siamo l'unico tentativo che è andato a buon fine e che può portare effettivamente dei buoni valori. In questi anni abbiamo dovuto combattere anche con un problema, un problema serio che era quello della negazione dell'investimento immobiliare, cioè per dal 2011, 2010, 2011 fino al 2014, 2015 sapete che tutto il sistema economico finanziario, l'input è no investimenti immobiliari. Mi ricordo ancora il compianto, è ironico questo, Federico Ghizzoni di Unicredit che in una dichiarazione pubblica disse chi pensa di comprare una casa o di investire una casa oggi è un pazzo, era il 2012-2013, quindi abbiamo avuto contro anche una parte dell'economia che non ha sostenuto il nostro mercato. Abbiamo dovuto quindi combattere ma siamo ancora qui dopo otto anni, siamo usciti come scrivevo agli associati, siamo usciti più forti da questa crisi. Oggi abbiamo veramente la possibilità di ripartire, purtroppo ci scontriamo ancora e qui è il crucio che mi faccio ma che si fa ogni presidente, ogni dirigente di associazione, abbiamo una politica che è distante dalle esigenze dell'economia e delle aziende. L'abbiamo provato in vari momenti e nell'applicazione di varie normative. Sul deposito prezzo, una legge di cui non si sentiva assolutamente l'esigenza, è una cosa in più, è una cosa in più che pensate, è anticostituzionale, per cui pensate solo agli interessi che vengono riversati allo Stato, non già perché il proprietario del bene abbia fatto una cosa particolare, ma esclusivamente se un'altra parte contrattuale richiede l'adempimento del deposito prezzo. E quindi voi capite che la norma, cioè paghiamo le tasse per interposta persona, capite che anche in questo caso una politica che vuole normare tutto quello che è possibile normare, crea danni alla filiera dell'immobiliare. Io una volta in trasmissione due anni fa, una trasmissione sulla Sette, dissi in un talk dove c'erano dei politici, la prima cosa che farei io se potessi governare la politica è impedirei al Parlamento di fare leggi per almeno due anni. Poi ci capiamo qualcosa e quando ci abbiamo capito qualcosa forse sfrondiamo quelle che avete fatto in più. Siamo stati sotto il fuoco anche come categoria perché sull'onda della Bolkestein questa normativa che ancora nessuno ha capito, ma una normativa, o ben compreso, ma una normativa pensata trent'anni fa quando c'era un altro mercato, quando la crescita sembrava inarrestabile. E quindi l'idea che aveva l'Europa era di un'economia in cui l'importante fosse il prezzo basso e la possibilità di accedere a tutto quanto in brevi momenti per il consumatore. No tutele, no garanzie, nulla di nulla. Oggi ancora stiamo parlando di Bolkestein e non capiamo invece che i nostri mercati vanno tutelati, che le professionalità vanno tutelate e che il valore dei nostri immobili va tutelato. Ne accennava prima il Presidente di Confedilizia. Questo è un paese dove non vale il diritto ad essere proprietari di una casa. Un paese in cui se io ti occupo l'immobile per 13-15 anni non fai nulla perché nessuno ti aiuta. E allora è qui la necessità che abbiamo noi associazioni, noi colleghi, noi dirigenti di fare l'unica cosa possibile. E l'unica cosa possibile che noi possiamo fare è quella di fare rete, di fare squadra, di essere tutti insieme rappresentativi delle nostre esigenze, non come singole agenzie. Questo come singole associazioni. Questo non vuol dire un richiamo all'associazione unica. Già ci sono associazioni uniche, vedi quelle degli albergatori che hanno promosso nel DL50 la famosa tassa che poi ci ha fatto diventare sostituti d'imposta. Quelli rappresentano troppe cose e non rappresentano nessuno. Noi abbiamo bisogno di un insieme di associazioni che rappresentino alle prossime elezioni cinque punti importanti. E dobbiamo dire alla politica il mondo dell'immobiliare vota e se volete il nostro voto, questo è quello che dovete fare. Non possiamo più subire passivamente una politica che non ci ha mai aiutato e molte volte ci ha ascoltato ma non ha messo in pratica quello che noi abbiamo richiesto. La nostra professione in otto anni è cambiata, è cambiata tantissimo. Citavo in una recente intervista la ricerca fatta da Tecnoborsa. Dal 43-45% di transazioni effettuate dagli agenti immobiliari oggi in Italia siamo saliti al 62-63%. Questo è un merito delle associazioni, è un merito dei singoli professionisti che si formano, che hanno voglia di imparare, ma è un cambiamento obbligatorio. È una cosa normale che accadrà e accadrà sempre di più perché il 2008, noi la chiamiamo crisi, la crisi del 2008 e la crisi del 2011, in realtà noi da tempo stiamo vivendo una rivoluzione. Una rivoluzione industriale che sta facendo morti, ha fatto morti, feriti, che cancellerà alcune professioni, che ne produrrà delle nuove. Questo è un fenomeno già in corso da tempo. Allora la domanda che la federazione si deve fare, che noi stiamo cercando e io ho cercato insieme a voi di svolgere in questi anni è perché la gente immobiliare ci sarà, non ci sarà, sarà sostituito, le app e tutte queste cose. Ho seguito vari dibattiti peraltro molto confusi e noi abbiamo una caratteristica e l'economia ha una caratteristica. Il web guiderà, aiuterà, tutti gli strumenti aiuteranno naturalmente e sostituiranno gran parte del consumo, del piccolo consumo, quindi della distribuzione alimentare, degli acquisti online e di tutta una serie di necessità. Ma quello che saranno fondamentali saranno le reti fisiche di prossimità che serviranno a risolvere i problemi delle persone. Se io voglio comprare una Coca-Cola non ho nessun problema andare su Amazon e farmi portare a casa una Coca-Cola, non ho bisogno di valore aggiunto, non ho bisogno di nulla. Ma se io ho bisogno di fare un acquisto immobiliare e voglio capire determinate cose posso avere nello strumento informatico un aiuto perché ricordiamoci che questo mercato deve essere e diventerà grazie al web sempre più trasparente. Ma nella trasparenza massima il cliente cercherà aiuto, consulenza, vorrà sapere se quell'investimento è un buon investimento o non è un buon investimento, vorrà sapere le prospettive del mercato. E lì la rete fisica di prossimità è fondamentale e noi in FIAIP che rappresentiamo 14.000 agenzie immobiliari siamo la più grande rete d'Europa e facciamo fatica a rendercene conto. E molti imprenditori, così come molti cittadini, con la cultura degli alibi che alimenta molti di noi professionisti, non cresce, non si aggiorna e dà la colpa o al governo ladro o all'associazione o a qualcun altro. Il primo impegno per cambiare, il primo impegno per modificare quella che è la nostra professione è personale, dell'imprenditore, della persona, di quello che riusciamo a percepire. Io ho sentito tanti dibattiti in questi anni, in questi anni si è sempre detto che l'associazione doveva fare, che quella persona doveva fare, quell'altra persona doveva fare. Ma mai ho sentito dire, scusatemi, io non ho capito cosa sta succedendo. Prova a cambiare, mai. Anche l'approccio agli strumenti informatici per molti di noi è sbagliato. L'MLS, i portali, il web sono strumenti che se sono non percepiti, se non sono percepiti come strumenti di lavoro, come opportunità a cui va legata la professionalità e la capacità di ogni singolo imprenditore. Sono strumenti, ripeto, che se non percepiti non servono assolutamente a nulla. Non troverete mai uno strumento informatico che vi fa venire i clienti in ufficio, che vi firmi i preliminari, che dà le consulenze, che fa vedere l'appartamento e che vi fa guadagnare. Lo strumento informatico è un mezzo. Chi lo vede come sostituto al proprio lavoro usa quello che molti fanno, la cultura degli alibi, dare sempre la colpa a qualcuno. Nel 95% dei casi le aziende che non hanno successo non hanno successo perché è l'imprenditore che non è capace e non lo strumento informatico. E allora è venuto il momento, usciti dalla crisi, per così dire, e sfruttando le opportunità per questa federazione di iniziare un percorso di crescita personale degli imprenditori. L'associazione è vicina, ha tutti gli strumenti e fornisce tutti gli strumenti, ma bisogna cambiare mentalità. Per cambiare mentalità l'unico modo è lavorare insieme. E per lavorare insieme bisogna abbandonare quello che contraddistingue il 95% delle associazioni. Bisogna abbandonare la mancata o la non voglia di essere uniti. Bisogna discutere e non litigare. Bisogna dire le cose vere e non quelle false. Bisogna anche lì essere insieme, fare squadra e lavorare per la comunità. Non pensi, chi si candida a questo congresso, di aver vinto la bambolina. Questa federazione è una federazione che ha bisogno di gente che si mette al servizio degli altri. Essere presidente, essere vicepresidente, far parte di un comitato esecutivo, in un'associazione, vuol dire non comandare. Vuol dire lavorare più degli altri. Vuol dire dare l'esempio. Se tutti noi diamo l'esempio, se tutti noi in questi anni avessimo lavorato per seguire questa mentalità, con questa mentalità, avremmo fatto tutti meno fatica e avremmo lavorato molto meglio. La federazione è una federazione oggi che vi consegno, che vi consegniamo, i miei colleghi sono tutti in prima fila, che vi consegniamo forte. Una federazione ben rappresentata, una federazione solida dal punto di vista economico, una federazione ascoltata dalla politica, dalle istituzioni. Questo abbiamo fatto in questi otto anni. Abbiamo fatto cose che prima non c'erano. Cambia fase. Paolo Righi è stato un presidente di guerra, tra l'altro, perché la guerra diciamo che è finita. Oggi abbiamo bisogno di dirigenti che sappiano cogliere le opportunità che si presentano. E credetemi, in questa rivoluzione socio-economica le opportunità sono più dei disastri che esse stessi hanno provocato. Siamo in un mondo di opportunità. Io vorrei veramente, un po' vi invidio, perché vorrei l'entusiasmo, che non ho, per fare ancora e cogliere queste nuove. Questo è un momento sfidante per noi imprenditori, per noi professionisti. È un momento in cui, se avremo la capacità di fare rete, se avremo la capacità di stare uniti e non i soliti pataracchi federativi e tutte queste cose, ma se lasceremo lavorare coloro che verranno eletti, allora avremo un grande futuro davanti. L'augurio che faccio ai nuovi eletti è di non subire quello che ho subito io. Io ho fatto un mandato di quattro anni, e da Taormina i primi due anni mi dovevo proteggere dalle bombe che arrivavano da tutte le parti, dall'opposizione, perché noi, anche noi, abbiamo l'opposizione, no? E due anni ho lavorato e due anni a scrivere, a dire, quello ho detto, ma succede in tutti i partiti, Gbd non sa bene, Forza Italia, no? Se è senatore, quindi... Dopo Genova, prima di Genova, denunce, cose, due anni a lavorare, due anni a non fare niente. Allora, questo è il momento di lavorare. Il congresso è questo. Chi ha vinto governi, chi ha perso, aiuti gli altri. Semplice. Io, volendo dare spazio ai lavori congressuali e l'altro, ho già scritto ai consiglieri nazionali la mia relazione per iscritto, ma sulla professione voglio dire una cosa. Noi abbiamo la 3989, che è una legge, appunto, dell'89, modificata dalla 57 del 2001. Nel 2001 era un altro mondo. Nel 2001, coloro che hanno fatto la 57 del 2001, hanno messo l'incompatibilità con tutte le attività professionali. Quindi che cosa hanno fatto all'epoca? Hanno preso l'esclusiva di tutte le vendite in Italia. Solo l'agente immobiliare può vendere immobili in Italia. Questa era la 57 del 2001. Il patto era, fate solo gli agenti immobiliari. Vi abbiamo consegnato il mercato. Ci stava. Non voglio criticare. Cioè, perché le decisioni vanno contestualizzate. Altrimenti sembrano delle stupidaggini. Oggi non siamo nel 2001. Chi ancora pensa, chi ancora pensa a mantenere intatta questa normativa, non tanto l'accesso alla professione che deve essere rafforzato, dobbiamo puntare alla professione intellettuale, ma ancora chi pensa che la 57 del 2001 vi garantisca qualcosa e quelli che lo dicono anche all'interno delle federazioni, vi prego non ascoltateli. perché di sola mediazione, di sola 57 del 2001, noi moriremo. Oggi il mercato chiede a noi che siamo terzi alle parti, perché il nostro vero valore è la terzietà. Ma noi dobbiamo riuscire a dare valore aggiunto alla nostra consulenza. dobbiamo poter fare gli amministratori di condominio, dobbiamo e dobbiamo e possiamo fare servizi aggiuntivi nella nostra agenzia. Quello è mettere al centro il cliente. Oggi tutto è rivolto al cliente. Chi ancora oggi fa politica federativa pensando alla federazione sbaglia. Noi rappresentiamo le agenzie immobiliari, noi dobbiamo pensare alle nostre agenzie immobiliari e nel 2017 è improponibile pensare che ci sia ancora l'agente immobiliare dentro l'ufficio che aspetta qualcuno che dice io vorrei comprare un appartamento. Aspetti che gliene faccio vedere due o tre. Nel frattempo su internet ne ha già visti 50. Allora la collaborazione, la creazione di reti professionali è fondamentale per il futuro e questa creazione di reti professionali non è il franchising come qualche furbone pensa ancora è semplicemente il mantenimento delle proprie caratteristiche di azienda. Non conta l'agenzia immobiliare grande non conta l'agenzia immobiliare piccola conta la rete di quanti dati noi disponiamo da mettere a disposizione il nostro cliente per non farlo girare da un'altra parte semplice semplice. Questo dobbiamo fare questo per fare questo ci vuole un cambio culturale per fare questo l'associazione deve avere una guida forte deve avere una linea e dobbiamo cambiare quello che fin'oggi abbiamo sempre ritenuto una nostra idea dobbiamo andare verso delle pratiche comuni noi non riusciamo io non riesco e chi verrà dopo di me non riuscirà a rappresentare la categoria perché uno lavora in un modo uno lavora in un altro uno fa questo io faccio quest'altro io sono più furbo di te bisogna essere professionisti ma dobbiamo trovare uno standard lavorativo comune lo dico da anni questo è quello che ci proietta e proietta le nostre agenzie immobiliari posso entrare in un'agenzia FIAIP di Verona piuttosto che in un'agenzia FIAIP di Roma posso entrare in un'agenzia FIAIP di Brindisi ed avere comunque un servizio che so essere un servizio certo e professionale questo vuol dire creare una rete una rete che si possa spendere abbiamo milioni di opportunità abbiamo gli NPL abbiamo le asti immobiliari ma come pensate che la FIAIP possa fare a rappresentare ognuno dei nostri associati senza dire alla controparte abbiamo un abbiamo un modo comune unico di lavorare o degli standard qualitativi questo è importante abbiamo la necessità e questa volta forse ne avrete l'opportunità ne avremo l'opportunità come categoria nel nostro vagare col Presidente di Confedilizia nel nostro pietire qualcosa alla politica sembra che passi l'idea di estendere la cedolare secca a tutti quanti i contratti di locazione e sembra anche negli incontri nel tavolo che abbiamo aperto ce ne sarà uno la prossima settimana col nuovo Presidente questa volta lo accompagnerò per estendere il sostituto di imposta a tutti i contratti di locazione e allora senza entrare nelle dinamiche politiche e allora scusate ma se noi diventiamo sostituti di imposta e siamo rappresentanti dello Stato questa volta non ci entriamo più nelle Camere di Commercio ma dobbiamo chiedere quello che chiediamo da anni di diventare una professione intellettuale è lì è lì la strada è lì la strada quindi poi c'è chi vuole far diventare l'agente immobiliare un'impresa un'industria ma questo è un'altra cosa oggi questa distinzione non è più così smaccatamente diciamo divisiva perché il buon imprenditore il buon professionista deve sapere fare imprese e viceversa quello che è importante è la rete io faccio una cosa che penso non sia mai successa in federazione faccio questa mia relazione finale che concluderò fra dieci minuti col lato più umano possibile perché un po' devo dire ma vorrei chiamare all'interno della mia relazione un amico che rappresenta guardate un po' io che ho sempre combattuto le banche una banca che nei momenti difficili quando avevo i 7 milioni 4 milioni vi ricordate della federazione qualche quante notte non abbiamo dormito in qualcuno di noi beh ci è sempre stato vicino questo questo amico al di fuori della sua area aurea istituzionale insieme ad altri che lavorano con lui è Marco Taranto la vice direttore generale di BNL quindi Marco fuori dal contesto mi sento grazie dici una cosa bevo un goccio d'acqua grazie mi metti davvero in imbarazzo e quindi adesso prenderò qualche secondo per ricompormi e utilizzi i numeri che aiutano sempre quando uno deve trovare un po' il modo per togliersi da un momento mi è toccato quindi diciamo e quindi cercherò di rispondere con la stessa parte con cui vorrei chiudere fra un po' anche con la parte più appassionata e con la parte un po' più di cuore io ero presente quando tu otto anni fa sei stato letto ed era la mia prima volta che diciamo professionalmente mi avvicinavo al mondo della federazione italiana degli agenti professionali non credo di aver mancato un appuntamento in questi ultimi anni quindi tutte le assemblee tutti i congressi ci sono sempre stato e ti ringrazio per gli inviti prima di arrivare un po' alla parte diciamo vi provo a raccontare una storia durerà pochi minuti sono numeri voi esistete da più di 40 anni siete oggettivamente forse la più grande associazione europea o tra le più grandi associazioni europee di categoria e questa è già una cosa particolare perché l'Italia e l'associazionismo italiano alla fine ha un peso europeo molto più forte di quanto lo facciamo pesare all'interno dei singoli paesi perché comunque mettere insieme delle componenti che possono raccontare come vanno i mercati con professionalità e con tecnicalità non è una cosa per nulla ovvio voi lo fate lo fate come attori protagonisti a livello europeo non solo italiano ho preso una ricerca dell'ufficio studi di BNL che è stata emanata ad aprile quattro numeri in croce a livello globale i prezzi delle abitazioni sono ritornati al picco che era il picco del 2000 vuol dire che non c'è più uno scostamento di prezzo tra i prezzi degli immobili di oggi e quelli del 2000 stesso prezzo c'è stata una curva di diminuzione stesso prezzo noi ci ritroviamo oggi ad avere ancora i prezzi del 1986 avevano avuto i prezzi che erano cresciuti poi sono decresciuti ancora nel 2016 sono decresciuti e il valore degli immobili è uguale a quello del 1986 30 anni di vita del paese buttati 30 anni di valori immobiliari inesistenti la buona notizia è che c'è stata una crescita nel 2016 in particolare nell'ultimo trimestre del 2016 di crescita di valore trimestre su trimestre primo dato di inversione dello 0,1 vuol dire che dopo essere decresciuti la velocità di ingresso nel 2017 in termini di prezzo è stata 0 buona notizia perché non si vedrà ma i dati erano stati tutti negativi e fortemente negativi in tutti i trimestri precedenti degli ultimi anni precedenti quindi se non altro una piccola positiva notizia ultimo dato che vi leggo la compravendita delle abitazioni italiane in effetti sta cominciando a crescere cominciare a crescere significa che abbiamo raggiunto lo stesso numero di compravendite che svolgevamo nel 1996 circa mezzo milione all'anno quindi oggi l'Italia ha i prezzi dell'80 e il numero delle compravendite del 90 il picco è stato nel 2006 con circa il 60% in più di compravendite siamo veramente lontani da quello che è stato il momento un po' diciamo di picco perché vi ho raccontato questo perché la FIAP rappresenta correggimi se sbaglio più di 15.000 agenzie immobiliari associate credo un indotto tra dipendenti di oltre 40 45.000 persone che vivono le agenzie immobiliari della FIAP e il mercato che avete vissuto è un mercato di guerra e in guerra ci sono gli eroi e poter essere oggi qui a raccontare una storia è perché avete eroicamente lavorato per salvare le vostre aziende la vostra attività professionale quindi molto bravi davvero lo dico perché noi banche non è che ci siamo trovati negli ultimi 10 anni in una situazione molto differente perché anche noi ci siamo trovati in un mercato estremamente complicato anche noi ci siamo trovati con una competizione che deriva sempre di più dalle attività non bancarie anche noi ci siamo trovati con la congiuntura perfetta la tempesta perfetta i tassi che scendevano fortemente i spread che crollavano abbiamo assistito alle fasi in cui non avevamo funding non avevamo come dire denaro per poter finanziare non bien per paribas però il sistema bancario sicuramente sì ci siamo trovati nella condizione in cui il costo del rischio saltava in maniera vertiginosa e annullava tutti i profitti e quindi abbiamo dovuto cominciare a tagliare i costi tagliare il numero di agenzie e rendere più efficiente il nostro modello quindi anche noi ci sentiamo molto vicini alla difficoltà del mercato come tutte le industrie italiane non siamo stati le banche gli agenti immobiliari in difficoltà a tutto il settore però la cosa che è dentro un po' nella parte finale la cosa che però volevo dirvi è che io credo molto a quello che ha detto Paolo perché l'ho visto in questi ultimi otto anni è veramente stato una come dire un percorso in cui essere professionisti di professione non è stato solo dichiarato è stato reso tangibile la tua parte conclusiva preconclusiva diciamo di poco fa quando dicevi noi vogliamo diventare professionisti che fanno i professionisti vogliamo essere riconosciuti come tali e anche magari con una proprietà intellettuale della nostra attività stessa in effetti è vero perché io condivido anche quanto diceva Paolo in merito al fatto che la digitalizzazione non spaventa i professionisti la digitalizzazione spaventa gli impreparati spaventa i non bravi spaventa gli non specialisti la digitalizzazione ha supporto dei professionisti e chiudo dicendo che in questi anni noi abbiamo fatto crescere la nostra attività di partnership con FIAP in tutti i settori è ovvio che l'intuizione che sia Paolo che Samuele e Lupidi hanno avuto nella crescita di Auxilia ha molto supportato la partnership perché onestamente uno può dire rappresenti una banca la banca non lavora direttamente con gli agenti immobiliari lavora di più con i mediatori creditizi poi si possono fare tante cose fatte insieme ma la decisione di non aprire una filiera concorrente agli agenti immobiliari cosa che hanno fatto altre banche in Italia noi l'abbiamo presa perché c'eravate voi quindi la partnership non nasceva con questo fine perché le cose cambiano rapidamente la partnership ci ha rinforzato in questi anni rispetto a decisioni che poi sono diventate le nostre decisioni strategiche abbiamo deciso di non fare delle cose perché conoscevamo voi sapevamo quanto più bravi diventevate nel fare il vostro mestiere e non aveva senso diventare in competizione con dei partner che stavano sviluppando sistemi con cui potevamo lavorare altrettanto bene oggi per vendere le nostre le nostre diciamo le case in escursione e quindi che sono in asti immobiliari noi non creiamo un veicolo per farlo noi noi chiediamo a voi di farlo per noi quando dobbiamo entrare in un mercato abbiamo bisogno di dare ai nostri clienti della consulenza per cercare di capire quali sono i beni migliori che possono acquistare noi abbiamo per la parte grandissima una società che si chiama Bien Per Paribari e l'estate che fa le cose veramente da ultimi palazzi interi building interi stabilimenti ma per tutto quella che è la parte più dell'impresa della piccola imprenditoria o delle famiglie noi chiediamo a voi quindi chiudo dicendo sta finendo ovviamente il secondo mandato di Paolo noi siamo ancora più convinti oggi della nostra vicinanza e della nostra partnership alla FIAIP a tutto il mondo che è vicino alla FIAIP di quanto lo eravamo otto anni fa questo ovviamente merito del lavoro che hai fatto insieme a tutti i colleghi della giunta tutti i colleghi del gruppo dirigente di FIAIP quindi io personalmente ti saluto professionalmente per quanto riguarda questo mandato ma sono veramente molto molto contento di aver avuto la possibilità di approfondire in questi anni una relazione prima professionale poi personale da cui ho appreso molto la cosa che invidio non che non ne abbia tanta anche io però la cosa che invidio perché è una cosa che contagia e fa cambiare le cose vorrei che quante più persone potessero avere in Paolo è l'energia l'energia del fare il fatto che quando si impegna per fare una cosa la fa con una convinzione con una capacità di trascinare quindi io ti dico che per molte delle cose che hai detto poi ci siamo un po' fatti trascinare perché la nostra visione del mercato immobiliare è veramente molto vicina a quella della FIAIP sono sicuro che quello che lasci sarà anche un gruppo dirigente con cui continueremo a lavorare bene in questo momento ti ringrazio e ti saluto salutiamo questa fine del tuo mandato siamo sicuri che invece con tutti voi potremo continuare a lavorare insieme come abbiamo fatto a fine d'ora grazie davvero ci avviciniamo alla conclusione di questa relazione con appunto i compiti diciamo li ho già scritti al Consiglio Nazionale che rimarrà in carica abbiamo le opportunità ripeto abbiamo le opportunità di diventare professione intellettuale abbiamo l'opportunità di cogliere queste occasioni il mercato immobiliare non è solo la compravendita appunto di beni liberi ma ci sono tutta una serie di attività che possono essere utilizzate il web è una di queste io negli ultimi quattro mesi ho lavorato per questioni politiche voglio dire di rappresentanza con quelli di Airbnb con quelli che dovrebbero essere i nostri competitor e ho scoperto che quasi il 40% del mercato di Airbnb è fatto da host che sono agenti immobiliari i portali immobiliari sono pieni di agenti immobiliari cioè noi come categoria abbiamo fatto crescere tutti i nostri servizi dando fiato a nuove opportunità ma dall'altra parte qualcuno potrebbe pensare allora facciamolo noi e qui entra il fatto che gli agenti immobiliari noi agenti immobiliari siamo diabolici se è vero come è vero che ognuno deve fare il proprio lavoro è anche vero che noi non siamo stati capaci di prendere quello che era il momento sul web quando bastavano i contenuti e di fare un portale immobiliare non ci siamo riusciti e sapete perché non ci siamo riusciti perché non è il nostro mestiere lo dobbiamo far fare ad altri sapete che siamo riusciti in ausilia e qualcuno ancora non l'ha capito perché per i primi due anni di start up abbiamo preso due manager li abbiamo pagati pagati tanto ma hanno impostato quello che dovevano impostare e poi siamo entrati noi diffidate da coloro che vi dicono questo lo facciamo noi quest'altro lo facciamo noi perché perché spendiamo meno sono uguali a quei nostri clienti che dicono non andiamo dall'agenzia immobiliare perché è un costo le professionalità vanno sfruttate dobbiamo essere capaci di essere professionisti nel nostro settore e di avvalerci degli altri altrimenti commettiamo l'errore che commettono e che ha commesso Banca Popolare dell'Emilia Romagna mettendosi insieme a Don Pal avranno fatto quattro vendite in un anno si sono messi contro gli agenti immobiliari si sono messi contro 45.000 persone una categoria e che cosa hanno risolto? Nulla dobbiamo imparare a fare squadra dobbiamo imparare a essere rappresentativi quindi questo è l'augurio che vi faccio io ho lavorato tanti anni per la federazione come insomma è stato detto più volte insieme ai miei colleghi voglio ringraziare per la prima volta lo faccio non è mai successo quelle tre persone che sono lì che è la mia famiglia le mie due figlie la più piccolina la Gaia la Giorgia la mia moglie che mi hanno visto molto poco perché quindi scusatemi se vi sono stato lontano ma sabato e domenica arrivavo quindi grazie voglio ringraziare tutti i colleghi con cui ho lavorato ringrazio naturalmente mio padre che è qua in zona per la prima volta è lì grazie papà se qualcuno ha qualcosa contro di me a lui mi ha dato la vita quindi si rivolga a lui e non posso che salutarvi siete stati un pezzo della mia vita lo sarete sempre prima che mi commuova è stato un onore essere il vostro presidente grazie vi voglio bene ciao grazie a tutti 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 Grazie.